Sì, allora, una partita abbastanza dura, giocata a viso aperto, credo, da tutte e due le squadre. Un primo tempo che meritavamo ampiamente noi, un secondo che siamo calati un po', però alla fine abbiamo portato un punto prezioso per il nostro obiettivo che è la salvezza. Sì, 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 sì. Abbiamo dall'inizio detto che il nostro obiettivo era salvarci, possibilmente senza i play-out. Ci è mancato solo il gol. Sapevamo del periodo di forma della Bisaccese, infatti sta avvenendo da parecchi risultati utili consecutivi. L'abbiamo affrontato con il piglio giusto e sinceramente arrivare 10-11 volte in zona gol non spingerla soprattutto per imprecisione a parte nostra. È chiaro che diventa difficile. Specialmente nel secondo tempo abbiamo avuto una marcia in più e abbiamo prestato e chiuso nella metà campo, però, ripeto, non siamo riusciti a metterla dentro ed ecco lo 0-0. Era importante fare i risultati, muovere la classifica, andare avanti. Dobbiamo soffrire fino all'ultima partita, lo sappiamo e ci stiamo preparando per questo. Io c'è un'altra partita.